Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di paura dei ragni, paura dei ragni. Quanta gente, bambini, adulti, anziani hanno paura dei ragni secondo te? Ti posso garantire che va oltre l'immaginario collettivo sulla paura dei ragni. E perché si ha paura dei ragni? Per vari motivi, tra cui esperienze negative vissute da piccoli con un ragno, oppure hanno sentito sempre la solfa di qualche parente, genitore o della terza tv, i ragni sono mortali, la vedova nera, bla bla bla, tutte queste cose sono entrate qua dentro. Perché ti racconto tutto ciò? Perché non esiste medicinale che ti elimini un ricordo, non esiste farmaco, se rifletti, che cancelli quel ricordo che sta condizionando la tua vita. Perché ti sta condizionando? Perché non vivi bene, non dormi la notte con questo cruccio di trovare un ragno nella tua cameretta o in cucina o nel bagno, vero o no? Oppure in autovettura. Quante volte i ragni li si trova anche in automobile? Bene, tu oggi puoi eliminare questa paura dei ragni e con il metodo di CS del dottor Claudio Saracino, di ipnosi di CS vera e professionale, di ipnosi vera e professionale di CS, tu puoi anche aiutare chi non vuole il tuo aiuto, bambini di 4 anni, 5 anni, 6 anni, che vanno in crisi, isterica quando vedono un ragno, oppure anche adulti, anziani o che non possono ricevere il tuo aiuto perché non seguono ciò che tu gli dici. Io mi riferisco soprattutto all'ipnosi conformista e commerciale che richiede la partecipazione, che richiede la guida, no? Devi stare ad ascoltare come il sottoscritto utilizzava questa ipnosi conformista e commerciale di Milton Erickson, Brian Weiss, Develman, pur ottima, attenzione se tu dice il contrario, ma condizio sine qua non, la condizione senza la quale non si poteva mettere in atto era che si doveva partecipare, seguire le montagne, i ruscelli, la luce, i fiumi e chi più ne ha più ne metta. Con il metodo di CS invece non devi seguire nulla, non perdi neanche un secondo del tuo tempo, devi soltanto seguire la lettera, le istruzioni infacili, la prova di un nonno, la prova di un pigro, alla prova di un idiota. Anche con un solo audio MP3 di CS, non paura dei ragni che trovi sul sito dell'associazione I Prolegi Associati di Los Angeles Beverly Hills, tu elimini questa paura che non ti fa vivere a te, al tuo caro, alla tua cara e a chi vuoi bene, ok? Oppure se non vuoi, vuoi la presenza fisica, siccome il sottoscritto al momento, non vuol dire per sempre, al momento ha sospeso le sessioni di ipnosi, di CS, vera e professionale online, può rivolgerti ad un professionista dell'ipnosi, vera e professionale della tua zona che però attento ascolta che nessuno ti dirà mai, specialista e non generalista, perché nel mondo dell'ipnosi vera e professionale anche in questo mondo esistono gli specialisti, ma soprattutto i generalisti. Però chi domanda, comanda, domandi, dottore, professionista, ipnologo, ha mai trattato casi di eliminazione, cancellazione della paura dei ragni, sì o no? E ti risponde quanto costi, quanto non costi, quanto tempo, bla 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 e quindi poi solo a te la scelta. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita, iscriviti, scusami, su questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici, parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia veramente la vita e seguimi anche sugli altri socials come Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Ti bacio, ti abbraccio e non credere a me, ma credi in te stesso e in te stesso. Ciao!